ciao ragazzi e ho visto che si è alzato un polverone incredibile di una fake news totale cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama giovanna botteri cosa assolutamente non vera perché noi con striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista dicendo che tanti media e molti social l'hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un'ottima e una bellissima messa in piega questo non è attaccare una persona ma è rimanere nei toni di striscia come sempre e soprattutto ecco non è body shaming va bene vi faccio vedere il comunicato stampa che abbiamo mandato fuori e cerchiamo di andare a vedere le cose prima di accusare ok vai